Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide, andiamo a fare l'analisi tecnica del mercato delle criptovalute dalla settimana scorsa, purtroppo oggi è mercoledì ma ho avuto roba da fare. Quindi incominciamo con il video, come al solito vado a fare il disclaimer, tutto ciò che andrò a dire non è nient'altro che una mia opinione basata su esperienza e studi fatti sul mercato delle criptovalute. Quindi incominciamo, incominciamo come al solito per andare a vedere CoinMarketCap che ci segna una market cap totale di 239 miliardi e 489 milioni di dollari, un bitcoin che fa segnare una dominance del 65,7% con un volume nelle ultime 24 ore di 90 miliardi di dollari. Possiamo vedere bitcoin che momentaneamente è a zero negli ultimi 24 ore come la maggior parte del mercato, tranne Tezos che fa un più 5,97% e poi nelle prime 20 posizioni non vedo nessun'altra criptovaluta che fa rilevare un guadagno ottimale, tranne magari bitcoin sv che fa un meno 3%. Andiamo a vedere negli ultimi 7 giorni che cosa è cambiato e possiamo vedere che bitcoin cash ha fatto un più 3, bitcoin sv ha fatto un meno 5 ma ha fatto praticamente un più 120, una cosa del genere la settimana scorsa se non ricordate male. Stellar Lumen ha fatto un più 14, Tezos un più 20 e Ethereum Classic un più 21%. Ethereum Classic che costa anche poco, sarebbe interessante andare a lavorarci sopra. Andiamo a vedere direttamente sul mercato delle criptovalute cosa sta succedendo per quanto riguarda bitcoin su TradingView. Allora vediamo prima di tutto, mettiamo il grafico a un giorno e possiamo vedere che la media 50 periodi ha incominciato a tendere verso l'altro, certamente sta andando in maniera molto lenta ma sicuramente sta incominciando a salire. Ha utilizzato la media 200 periodi come resistenza, infatti c'è andata sopra, ha rimbalzato ed è tornata giù andandosi a appoggiare su un livello di prezzo che praticamente avevo anche segnato, ossia gli 8700 dollari circa. In questo momento è tra gli 8700 e gli 8300, non sono nient'alti che il massimo dell'altra volta è la media generale di questo settore del mercato, quindi in questa maniera potremmo tranquillamente andare a segnare questo come movimento di mercato, anzi andiamo a segnare quello di questo periodo di mercato. E quindi possiamo anche tenere presente che il bottom potrebbe essere tranquillamente la parte superiore invece di questa area, perché in questa maniera andrebbe a toccare il massimo di quest'alto periodo di mercato. Insomma i mercati non fanno nient'altro che corsi e ricorsi storici, anche se è una battuta di altro genere questo, però in effetti è realmente così. Inoltre se volete vedere un'altra similitudine è il fatto che sta molto vicino alla 0.5 di Fibonacci, quindi anche in questo caso sta andando ad utilizzare una struttura che è stata già intersecata con altri strumenti di analisi tecnica. Continuiamo comunque a vedere una crescita del mercato, potrebbe ancora essercene un'altra, dopo questo movimento di respiro secondo me potremmo avere un altro movimento di mercato che andrà a toccare ancora una volta questo livello, ossia i 9.300 massimo 10.000 dollari, che potrebbe essere il prossimo scalino da riuscire a raggiungere per poi ritornare in quest'altra area di prezzo che vedrebbe il prezzo di Bitcoin variare dai 10.8 ai 9.300 dollari. Un'area che potrebbe mantenersi stabile fino all'arrivo dell'alving, dove poi dal mio punto di vista nell'area che è stata segnata in questo punto con le linee gialle dovrebbe incominciare a volare prima dell'alving, arrivata all'alving scendere in maniera molto precipitosa. E questo è quanto riguarda Bitcoin. Possiamo vedere un'ultima cosa, ossia alla 4 ore, possiamo vedere che Bitcoin in questo momento ha fatto segnare un golden cross, ossia la 50 sopra alla 200 periodi e vediamo se avessimo acquistato in questo momento e avessimo venduto in quest'altro momento, quindi in momento di respiro, avremmo fatto un 17%. Quindi come vi dico, ogni volta che vedete la golden cross o la dead cross per quanto riguarda le criptovalute sul grafico a 4 ore, c'è sempre da tenere presente che c'è una possibilità di guadagno o, al caso contrario, di perdita. Quindi in questo caso io mi sento di dire che fino a quando entrambe le medie sulla 4 ore continuano ad essere in direzione crescente, anche se la 50 sta incominciando ad appiattirsi, comunque in direzione crescente, c'è la possibilità di guadagnare. Certo, ormai questa crescita di mercato l'abbiamo persa, bisognava arrivare un po' prima, magari quando era nel prezzo medio di 7000 dollari, in questo momento di mercato, ma potrebbe esserci ancora un guadagno, insomma, considerevole. Ethereum, che anche in questo caso, andiamo a vedere prima di tutto al giornaliero, e il giornaliero fa misurare comunque un aumento considerevole. Entrambe le medie sono comunque in parallelo, non sono in totale positività, e la cosa importante è che è uscita da questo cluster di prezzo che ha segnato per un periodo comunque un cluster importante, sia questo, un valore di prezzo importante, sia questo periodo, il periodo della grande crisi, insomma, del mercato delle cripto. In questo momento è uscita, non è ancora, Ethereum è uscita, non è ancora molto lontano, ma sta entrando all'interno di quest'altro cluster, quest'altro cluster che ha come top e bottom, il bottom 160 e il top 2 e 21, che è anche in questo caso comunque ancora un valore interessante per andare ad acquistare Ethereum. Andiamola a vedere alle 4 ore, vediamo che ormai la Golden Cross c'è stata, e se avessimo acquistato con questa Golden Cross magari nel punto più alto, perché logicamente andiamo a guadagno, quindi nel punto più alto, e avessimo venduto nel punto più basso avremmo comunque fatto un 16, addirittura un 14, quindi comunque un guadagno considerevole. E Ripple è l'ultima criptovaluta che andrò ad analizzare, andiamo a vedere prima di tutto il grafico a un giorno, e possiamo vedere che entrambe, anzi no, la 200 periodi ancora è in discesa, mentre la 50 periodi è in parallelo. Parallelo e inoltre possiamo vedere anche il fatto che la criptovaluta si è fermata su una di queste linee blu. non è nient'altro che il valore di prezzo di 0,25 centesimi di dollaro, un valore di prezzo che avevo segnato in precedenza, e in questo momento di mercato io mi sento di dire totalmente, sia per Ethereum, sia per Bitcoin e anche per Ripple, di non avere possibilità, buone possibilità, se andassimo ad acquistarlo in questo momento, logicamente a breve termine, poi a lungo termine è tutto da vedere. abbiamo detto che comunque le potenzialità delle criptovalute momentaneamente sono esagerate, però per quanto riguarda il momento storico, a breve termine avremo comunque un piccolo guadagno, non un grosso guadagno, o comunque un investimento che potrebbe fruttare, ma da qui a magari qualche mese. Quindi in questo momento mi sento, scusate, 0,23 centesimi, in questo momento mi sento di dire di rimanere fermi, magari al prossimo down sicuramente potremmo andare a investire. Ormai il down è stato fatto e dal mio punto di vista non è neanche un down importante. Andiamolo a vedere con Fibonacci, che non mi ricordo mai dov'è, eccolo qua. Allora, partiamo dal punto più basso, andiamo fino al punto più alto, come vedete è ancora in crescita, non è neanche un ritracciamento, il ritracciamento normalmente è tra i 6,18 e i 7,86, ma è totalmente in crescita, quindi il mercato sta soltanto pensando. Probabilmente da qui a qualche settimana continuerà a crescere, ma insomma non abbiamo la certezza. Quindi in questo momento di mercato, l'unica cosa da fare reale, non opinionabile dal mio punto di vista, è proprio rimanere fermi. E per quanto riguarda l'analisi tecnica del mercato delle criptovalute, per questa settimana è tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare, e di andare a visitare il mio account Instagram DavideVasco85. Grazie per aver visto il video, e al prossimo video, che sarà probabilmente tra qualche giorno. Ciao a tutti!